Un altro incontro durante questa Formula SAE 2013 al Riccardo Pelletti di Varone Megari con l'ingegnere Toso della Dallara Automobili. Chiediamo, ingegnere, come ha visto questo inizio di manifestazione? Beh, è sempre un'emozione vedere i ragazzi anno dopo anno migliorare, far via la pelle d'oca. Io vorrei essere uno di loro, sinceramente. Le macchine riflettono questo miglioramento continuo. Si vede, soprattutto nella parte veicoli elettrici, l'affinamento, la riduzione del peso, i batteri sempre più efficienti. È veramente uno spettacolo. Apro il cuore ed è uno stimolo per noi ingegneri un po' più di esperienza vedere idee fresche, idee nuove, il futuro dell'automobile qui. Grazie. 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 Grazie.